Buonasera a tutti, nonostante anche oggi a mio avviso il mercato abbia presentato diverse criticità, soprattutto legate purtroppo, come è capitato spesso nelle ultime sedute alle trimestrali pubblicate, oggi un titolo tra i più penalizzati è stato per esempio Piaggio, vedremo più avanti la trimestrale, classico bene ma non benissimo, ma non da giustificare un sell-off che ha visto il titolo perdere fino a oltre il 6%. Però la considero quella odierna una seduta interlocutoria, perché come vedremo tra poco i volumi scambiati oggi sono stati comunque piuttosto bassi, non ci sono stati dati macroeconomici così importanti da fare proprio da market mover, per cui sarà nei prossimi giorni che potremo capire finalmente l'andamento dei principali mercati azionari europei e americani. Certo, quando una società rilascia la propria trimestrale comincia a, come diceva un noto personaggio italiano degli anni 70 e 80 nel film I banchieri di Dio, fanno tremare i polsi, perché effettivamente io, e non ve l'ho nascosto, sono in ballo con Amplifone Campari, ho voluto scientemente, come amo dire io, aspettare la pubblicazione che dovrebbe avvenire domani a mercati aperti per entrambe le società e mi è bastata la semestrale di risanamento che poi affronteremo comunque tra poco. Dal mio punto di vista è stata una delusione piuttosto forte, non cambia in realtà nel medio e lungo periodo la possibilità, l'obiettivo ambizioso che può avere il titolo di risalire la china, però nel breve potrebbe ovviamente soffrire molto. Per cui bisogna essere particolarmente prudenti e augurarsi che questa stagione dei trimestrali finisca al più presto perché ha provocato dei danni sui mercati a livello di singoli titoli che non vedevamo probabilmente da periodi in cui ci sono stati dei sell off decisamente più importanti anche a livello di indice, per cui direi almeno dal 2022, che è stato comunque un anno piuttosto negativo per tutte le principali borse mondiali. Prima di partire ad analizzare il mercato devo come al solito ringraziare Franco, Andrea e Gianni che hanno effettuato una donazione a favore di questo canale YouTube. Vi condivido lo schermo, partiamo come nostro solito dai principali indici americani, quindi dal Dow Jones e ovviamente confermo quello che vi ho detto di recente, ovvero che Dow Jones sembra l'indice americano con maggiori probabilità di tornare sui massimi storici che ha toccato il 18 luglio a 41.376. La candela di oggi è candela inside, però comunque il rimbalzo dai supporti è stato piuttosto chiaro e la mia idea è proprio che possa tornare fino a 41.376. Tentativo di comunque creare una base per lo Standard & Poor's 500, venerdì aveva già ripreso la media mobile a 50 che nel frattempo è diventata, passa voglio dire a 5.439, c'è questo 5.508 massimo 24 luglio e poi la chiusura del gap è stato aperto sul minimo del 23 luglio 5.550. Nasdaq in questo caso abbiamo il Composite, anche qui vedo un tentativo di fare base. Il minimo di breve è stato a 17.033, oggi sta disegnando una spinning top massimo 17.535, in questo momento starebbe chiudendo però poco sotto di 17.400, obiettivo diventa 17.747, poi la chiusura del gap lasciato aperto sul minimo del 23 luglio 17.968. Nasdaq 100, vedete situazione più o meno analoga, minimo di periodo 18.721, livello di resistenza rappresentato dalla media mobile a 50, 19.442, poi c'è il massimo 24 luglio 19.482, chiusura del gap sul minimo del 23 luglio 19.736. Prima seduta di arresto per il Russell 2000 che però continua a essere inserito nel trading range compreso tra 21.176 e 22.278. Dax, movimento non molto esaltante perché ha fatto praticamente un ops ribassista, massimo 18.546, apertura di 18.542, poi chiusura gap a 18.428 sul massimo di venerdì e minimo in trade è 18.309 con chiusura a 18.320. Però per il momento rimane il trading range tra 18.096 e 18.16.47. Caccarant, sinceramente male perché poteva essere quasi un engulfo in bearish, c'è da dire che non ha neanche perso il minimo di venerdì 7.427 avendo fatto un minimo di 3.749. Quindi potrebbe provare a fare base qui su questi minimi perché ripeto oggi ha fatto 7.429 di minimo venerdì 7.427. Se facesse base su questi livelli potrebbe provare un rimbalzo fino alla media mobile a 207.667, se no si torna sui minimi di periodo di 7.341 toccati giovedì. Euro Stoxx 50, situazione anche qui di rischio quasi di engulfo in bearish, sventata per un pelo, vale il discorso fatto col CAC, Carant se tiene 4.810, un rimbalzo fino alla media mobile a 50, 4.950, media mobile a 100, 4.967 la può fare, se no si va sul minimo di giovedì 4.767 e poi più sotto c'è la media mobile a 200, 4.724. Euro Stoxx banks oggi leggermente venduto, è più probabile a questo punto che vada a cercarsi 142.96, poi la media mobile a 50, 142.4, media mobile a 100, 141. Fuzzi Mip Futures, io credo che purtroppo dopo la rottura della rialzista che è avvenuta giovedì, la rialzista partita dal minimo del 14 giugno, sia più probabile per il nostro Futures una prosecuzione a ribasso con primo target 33.460 e poi 33.240, attenzione però che oggi e riguardo proprio in tempo reale i contratti non arrivano neanche a 10.000, siamo a 9.362, per cui diciamo che va tutto rivisto, va tutto riparametrato quando dovessero arrivare anche scambi un po' più importanti. Mid cap brutta candela perché chiude sui minimi di giornata a 47.224, per un massimo intradere a 47.894, rimane comunque ancora possibile la tenuta del 47.044, minimo del 25 di luglio, che favorirebbe la chiusura del gap da sottoaperto sul minimo del 24 di luglio 48.037. Concludo, aspettate che la cerchio, concludo con il Fuzzi Star che per fortuna, nonostante come l'indice mid cap ha chiuso sui minimi di giornata a 46.566, non ha perso il 46.340, anche se il baluardo, io a questo punto lo considero rappresentato dalla media mobile a 200, 46.2 e 63, per cui tra questo livello dal media mobile a 200 e il massimo di giovedì 47.397 è il range nel quale dovrebbe muoversi nelle prossime sedute. Andiamo a vedere gli scambi complessivi, che come vi dicevo sono abbastanza modesti, perché siamo solo a 2 miliardi 0,93, prima delle aste avevamo solo ovviamente, anche qui dato in calo, venerdì aveva 1 miliardo 908, oggi 1 miliardo 5,81 e ringrazio come al solito Renato per il puntuale contributo. Adesso andiamo a vedere il Fuzzi Mib, come si è rimosso a livello di singoli titoli e direi che, fatemi un attimo prendere anche la classifica, ma mi interessa fino a un certo punto perché ci sono dei temi che vanno assolutamente discussi indipendentemente dalla variazione. Partirei comunque da Stellantis, perché Stellantis si sta impostando veramente piuttosto male. Anche oggi nuovo minimo di periodo, ovvero 15,464, poi rimbalza leggermente andando a chiudere a 15,628, però c'è da dire che la rottura è abbastanza chiara, perché comunque potevamo prendere come baluardo importante il minimo del 7 di luglio, 15,802, adesso direi che è vero che Intraday ha fatto già un 15,464, c'è comunque, perché in chiusura è stato ripreso il minimo del 29 giugno del 2023 15,532, però se andiamo a mettere a livello settimanale il grafico di Stellantis vediamo che l'obiettivo potrebbe essere addirittura 14,896 minimo ultima settimana di giugno del 2023. Perché Stellantis continua a scendere? Oggi abbiamo avuto Deutsche Bank che ha tagliato la raccomandazione a Hold e un taglio di target davvero importante da parte di Berenberg perché ha tagliato da 29 a 19. Poi Campari, ecco su Campari devo dire che sono stato davvero sorpreso, poi non avendo perso l'area di minimi di periodo, avendo fatto un minimo a 8,41 e poi avendo chiuso 8,50 ci si gioca tutto domani con la trimestrale, però bisogna fare molta attenzione perché ve l'avevo già fatto vedere e si vede molto bene sul mensile, se dovesse chiudere sotto 8,38 e 4 vedete che il movimento di ribasso può arrivare, non augurarselo domani, nei prossimi giorni fino a 7,42, per cui io sarò venditore del titolo, mi sto però in perdita se dovesse capitare. Stesso discorso può valere per Nexi. Nexi mi pare che pubblichi mercoledì la propria trimestrale, anche qui il punto di non ritorno per il breve è 5,53, un altro titolo che io ho in portafoglio. Poi prendiamo una banca perché mi sono sentito con Daniele questo weekend perché è uno degli allievi più meritevoli che ho e ho fatto uno strappo alla regola, non lo nascondo, ci siamo sentiti un attimo e gli ho detto sai Daniele vedo un po' anche le banche a rischio distribuzione e per esempio Sondrio fa vedere che potrebbe anche tornare a 6,80 poi 6,72 e mezzo minimo del 2 di luglio. Fatemi un attimo vedere ancora qualche altro titolo che abbia avuto una variazione negativa significativa, anche se non abbiamo visto i crolli della settimana scorsa. Ecco però la partita di Amplifon è un'altra partita importante, dipenderà tutto dalla trimestrale di domani, obiettivo 28,87 e chiusura gap 28,74, se dovesse effettuare una chiusura giornaliera sotto 28,74 io chiuderò anche in perdita il titolo. Moncler giornata seduta interlocutoria perché perde ma fa candele inside, si sta creando un trading range compreso tra 53,34 e 57,20, continua la fase molto difficile anche per Iveco, io Iveco non sto ancora intervenendo, lo farò probabilmente solo se dovesse fare base in area 9, cioè questo 9 minimo 22 di gennaio, poi c'è 8,95,4, altrimenti si arriverà sul minimo dell'11 di gennaio che è 8,72,2. poi Brunello Cucinelli che però sinceramente fa una seduta interlocutoria, quindi io ho ancora mantenuto il titolo, range 83,4,87,85. Saipem continua la sua fase di correzione, oggi perde anche la media mobile a 100,22,5, qui da 2,19,8, obiettivo 2,17,9 e poi 2,12,1, 2,083. Azimut che sta peggiorando il quadro tecnico, ma prima di accelerare a ribasso e perdere 22,82 e portarsi prima a 22,59 e poi a 22,51, vedete anche intesa un rischio di distribuzione, c'è probabilmente ne avremo conferma sotto 3,62,1, con primo obiettivo la media mobile a 53,56 e 4 e poi direi si può arrivare fino a 3,5155 minimo del 2 di luglio, considerato che la media mobile a 100 e poi 3,48 e 3. Questo per farvi vedere alcuni dei movimenti più significativi a ribasso, non posso fare ovviamente tutto perché poi dopo diventa veramente molto molto problematica, aspettate un attimo che voglio già, così mi porto un po' avanti, ok, allora vediamo invece dove ci sono stati degli acquisti a livello di Fuzzimibba. Leonardo, Leonardo che oggi va a ritestare la media mobile a 100,22,44, fa un massimo a 22,50, poi chiude a 22,24, credo che però nelle prossime sedute si muoverà in trading range tra 21,03 e poi 23,45. Rimbalzo di STM perché comunque oggi stava rimbalzando in maniera abbastanza convinta, soprattutto nella prima parte di giornata in Nasdaq, c'è da dire che area 30 è un'area molto sensibile per un rimbalzo, quindi se non dovesse perdere questo 30,02 minimo di venerdì può muoversi per diverse sedute tra 30,02 e 34 e 25. Eni nonostante abbia ritracciato leggermente, chiude con una spinning top simil doge appena sotto la media mobile a 200, il massimo odierno 14,736, chiusura media mobile a 200 14,753, chiusura 14,63, target 14,87, chiusura gap minimo 15 di maggio 15,002. Continua a comportarsi piuttosto bene ricordati, io continuo a mantenere il titolo e ho un target sul massimo del 24 di aprile 53,4. Snam, io la vedo ancora piuttosto tonica, potrebbe tornare sui massimi di breve 4,43,3, poi 4,52,9, 4,54,6. Prismian, per il momento ancora trading range tra questo minimo di giovedì 60 e 28, i massimi storici di 64 e 66. Un altro titolo che si sta comportando bene di periodo è Erg, perché nonostante la chiusura leggermente deludente, fino a 25,16 e poi sulla media mobile 225,19 può indubbiamente tornare. Adesso, prima di passare ai titoli al di fuori del Fuzzimib, dobbiamo cominciare a lavorare un po' sui titoli che hanno rilasciato la propria trimestrale barra semestrale oggi. Allora, non voglio ripetermi dicendo che Piaggio è un po' come Iveco, però diciamo che i dati non sono brillantissimi, però sono una continuazione, sono sulla falsa riga di quanto già pubblicato nel primo trimestre. Ricavi 990 milioni da 1.167 miliardi, margini di lavoro industriale 295 a 3.7.8, EBIT da 173.8 a 191.2, EBIT 104.1 da 117.6, risultato ante imposte 77.8 da 98.2, utili netto 52.1 da 64.8, posizione finanziaria netta meno 408 milioni da 434, veicoli venduti nel mondo 270.270 mila e 100 da 324 mila e 600. Scusatemi, ma ho talmente tante cose da fare per spiegarvi bene quello che devo spiegarvi, che devo aprirmi un attimo qui anche Piaggio per parlare di capitalizzazione di mercato. Perché dico che, e adesso poi vedremo anche il grafico, siamo di fronte però a una situazione abbastanza, se vogliamo, esasperata? Perché comunque quando ci troviamo di fronte a questi dati dobbiamo però andare a vedere se il mercato li sta già apprezzando, ovvero alla chiusura di oggi Piaggio capitalizza 963 milioni. Quindi se quest'anno, andiamo per leggero difetto, Piaggio dovesse fare 100 milioni, comunque vale più o meno 9 volte e mezzo, 10 volte gli utili, per cui non è così caro il titolo. Quindi purtroppo, come vi dicevo, il mercato in questa fase è particolarmente penalizzante per le trimestrali che escono non brillantissime e Piaggio oggi ha fatto questo movimento qui, con una chiusura a meno 6,03%, minimo intraday a 2,54, chiusura a 2,55,4 e comunque il rischio è di rivedere il titolo sui minimi del primo di novembre 2,48,6. Però poi se mettiamo un settimanale vedete che sinceramente potrebbe anche arrivare fino a 2,45, minimo prima settimana di novembre del 2022. Quindi situazione su Piaggio davvero abbastanza critica. Poi, andiamo adesso, ne ho già salvato un po', facciamo risanamento. Ecco, risanamento va letta bene. Perdita consolidata netta di 25 milioni. Io ho ancora 200 milioni per cui domani uso un linguaggio non scurrile, soffrirò. Ci sarebbe un'altra parola che comincia per esse e finisce però accentato, che si addice di più a quello che rischio domani con risanamento, avendo il titolo in portafoglio. Rispetto al risultato netto positivo di 18,7 milioni al 30 giugno 2023, che beneficiava anche degli effetti positivi dell'operazione Project Style Fighter pari a 30 milioni. Quindi comunque al 30 giugno dello scorso anno avrebbe ugualmente perso. Posizione finanziaria consolidata netta positiva pari a 38,9 che si confronta con quella di 50,2. Guardiamo anche la capitalizzazione di mercato aggiornata di risanamento. Siamo a poco meno di 65 milioni. Patrimonio consolidato netto positivo pari a 27,6 milioni rispetto a un patrimonio netto consolidato positivo pari a 52,6 milioni. E qui si pone il primo problema, perché si rientra in quella casistica che, vediamo se è scritta qui sotto, l'articolo, vediamo se ve lo trovo, questo qua. Alla luce delle risultanze contabili e reazione finanziaria semestrale consolidata, approvata, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che con riferimento alla Capogruppo ricorre ai presupposti previsti dell'articolo 2446 del Codio Civile, ovvero la riduzione del capitale sociale oltre il terzo, conseguentemente il Consiglio di Amministrazione avverrà l'interpreduzione relativamente in senso di quanto disposto. Poi nel comunicato c'è scritto, peraltro, scusate che non ci sono covenant scaduti. Allora, sostanzialmente, il motivo di questa situazione, che io non mi aspettavo, ve lo devo dire, è maggiori oneri per l'attività di bonifica, che sono stati spiegati sopra. Nel senso del 2024 si vede che possa registrare un risultato di segno negativo in peggioramento rispetto a quello del 2023, senza ovviamente conto, tra l'altro gli effetti positivi rivenienti dell'operazione Project Starfighter e di correlate partite di carattere straordinario, quantificabili complessivamente in 30 milioni di euro. Tra l'altro gli effetti negativi rivenienti da ogni finanziario contabilizzato in primo semestre, pari a 7 milioni che non sono stati più sostenuti a partire dalla totale esdebitazione intercorsa. Cosa significa? Che se, come vi dicevo, nel medio e lungo periodo può ancora il titolo comportarsi come io credo, ovvero fare x volte i prezzi attuali, adesso con questa situazione potrebbe andare già domani a ritestare i minimi di periodo di 0,0287 e eventualmente rompere anche al ribasso. Quindi situazione davvero pericolosa per risanamento non ci voleva. Poi, Trend Device. Trend Device hanno comunicato ad Antonio Capaldo e Alessandro Palmisano la conclusione di immagini preliminari. La contestazione, hanno finalmente potuto consultare gli atti, è per un'ipotesi di emissione di fatture per operazioni giudicatamente inesistenti, basata esclusivamente sul fatto che Trend Device avrebbe erroneamente applicato il regime del margine ex articolo 36 decretto legge 41.95 anziché il metodo del reverse charge nel rivendere alcuni smartphone usati. Comunque, vedremo. Il titolo purtroppo soffre perché è in area di minimi storici. è un'altra situazione che io cercherei di vedere più avanti nel tempo quando si sarà risolto qualcosa di più chiara. Ricavi preliminari non ve li posso far vedere tutti. È per Nusco. Nusco continua la sua crescita. ha fatto nei primi sei mesi 26,4 milioni da 24.6 in tutto questo schifo, mi verrebbe da dire, che stiamo vedendo. Direi che è anche una situazione moderatamente positiva. Il titolo potrebbe anche provare a rimbalzare, andare a rompere area 1 per ritornare in area 1.05. a mio avviso se lo meriterebbe anche. Poi, qui abbiamo i dati di CIR che sono un po' condizionati in positivo ovviamente all'operazione straordinaria di Sogefi. Ricavi 928 milioni più 2% EBITDA 134,4 più 20%. Utile netto 114 grazie appunto all'operazione straordinaria di Sogefi. Sogefi anche il free cash flow è molto alto 365.1 sempre per questa operazione straordinaria perché c'è questa posizione finanziaria netta a 369.8 prima rivendendo straordinaria incassato da Sogefi di 61.7. Quindi indebitamento contro atti industriali però ante IFRS 16 54 milioni quindi situazione direi piuttosto positiva. Diamo uno sguardo dal punto di vista tecnico per CIR. CIR sta provando a fare base in area della media mobile a 200 0,5635 quindi se tiene questo livello un rimbalzino fino a 0,59-0,597 potrebbe anche farlo. Poi vediamo cosa ho per farvi vedere Fervi, solo ricavi preliminari leggera contrazione 29.1 milioni meno 1,36% posizione finanziaria netta meno 6,3 milioni ma miglioramento di 1,3 milioni sul titolo di scambio purtroppo molto poco adesso farvi ragioni che non scambiava vediamo se questa è un'area addirittura di minimi storici no, minimi di periodo comunque magari i dati possono riportare qualche scambio sul titolo non deve perdere il minimo di periodo 14.6 però quando i titoli scambiano così poco è meglio sinceramente non tradarli. Vediamo ancora IREN IREN che ha migliorato del 5% le bidda del 2% l'utile netto e ha un indebitamento di poco superiore ai 4 miliardi qui vi ho già detto come si fa il calcolo abbiamo poco più di 1,2 miliardo di bidda per il 2024 quindi siamo poco sopra 3 volte le bidda per quanto riguarda rispetto il debito è poco più di 3 volte le bidda quindi comunque è sostenibile la situazione andiamo a vedere graficamente oggi fa in realtà quasi una marobozzo black direi trading range compreso tra 1,879 e il massimo del 29 luglio 1,95 e 2 adesso possiamo recuperare i titoli migliori e peggiori al di fuori del Fuzzimib su Fidia è ovvio che mi debba cospargere il capo di cenere perché ho detto chiaramente che è un titolo che io avrei ancora evitato oggi fa questo mega rimbalzo da più 22,7 se soprattutto so che Giovanni fa questo tipo di operazioni ha letto qualcosa io non ho visto nulla si crea a questo punto però la possibilità di un trading range tra 0,291 e 0,43 e 6 altra situazione ancora per me più spiegabile è il movimento odierno di Zinia Govetro perché i dati erano stati molto deludenti venerdì oggi fa quasi contro candela comanda ancora la candela di venerdì 10,50, 11,58 però vediamo domani come si comporta perché non è sinceramente spiegabile un movimento di questo tipo alla luce dei dati e del movimento di venerdì oggi comprata Bialetti Long White massimo 0,22,5 chiusura 0,21,9 visti anche i volumi in aumento nelle ultime sedute il titolo potrebbe arrivare fino a 0,23,4 massimo del 5 di luglio anche oggi sale mare engineering devo dire che quell'operazione con le azioni dati in OPS a 4 sta portando bene e c'è la possibilità di arrivare a 4,15,2 4,309 oggi si è quotata Misitano e Stracuzzi ha fatto quasi più 4 64 mila pezzi ma è perfettamente inutile analizzarla Iervolino volevo vedere un attimo perché però continua a essere in area di minimi storici potrebbe fare un rimbalzo fino a 0,49,9 poi la media mobile a 100 a 0,51,2 Pininfarina Pininfarina l'avevamo già vista perché comunque è un titolo che è in trade range ma sta scambiando ogni tanto un po' più del solito massimo in trade 0,79,4 chiusura a 0,78 chiude praticamente sulla media mobile a 200 obiettivi 0,806 massimo 27 di maggio poi 0,82,8 0,83,6 Notorious volumi un po' più alti della media per Notorious però eravamo addirittura su minimi storici quindi direi di sì quindi per carità un rimbalzo lo può fare magari fino a 0,91 ma io sono situazioni tecniche che non amo particolarmente e preferisco non occuparmene in questa fase TXT invece titolo sempre ben comprato aveva ritracciato leggermente dai massimi storici dell'11 luglio 27,5 Long White 26,45 chiusura 26,10 potrebbe anche rimbalzare ulteriormente tornare a 26,7 poi massimo appunto dell'11 luglio che è 27,5 Gas Plus ah forse qua devo fatemi controllare forse oggi c'era il dividendo fate pazienza faccio un controllo al volo come vedete quando vi dico che non preparo mai nulla ma allora vediamo un po' se staccava eh sì sì c'era il dividendo di 0,15 ok allora mi quadra gap down quasi ricoperto spinning top con range molto ampio minimo 238 chiusura 247 praticamente sulla media mobile a 200 essendo così ampio il range di oggi probabilmente sarà il range entro il quale il titolo si muoverà per diverse sedute IGD eccola qui eh devo dire che è pronta IGD pronta per cosa tornare sui massimi di periodo 2,055 e probabilmente romperli per tornare a 2,26 massimo 27 di febbraio quindi IGD davvero molto bene Redelfi volumi non eccezionali però vediamo se è pronta per un rimbalzo sta provando a fare base qui poco sopra 4,65 direi che potrebbe arrivare fino alla media mobile a 50 5,36 poi massimo 15 luglio che è 5,40 oggi invece ho visto un po' venduta Altea confermo perché è vero che fa una marumbozzo black con un range stretto 7,16 ma perde più che perde conferma la difficoltà a stare sopra la media mobile a 207 11,6 per cui potrebbe tornare a 6,65 minimo del 27 di giugno poi vi avevo detto di quella notizia su Grifal di quel finanziamento in Portogallo se ricordo bene oggi ha fatto una doji con massimo 2,15 chiusura 2,10 siccome era 1,6 milione a fondo perduto probabilmente il titolo inizierà a muoversi in trading range tra 2,06 e 2,22 we build we build we build ancora bene io credo che al di là del massimo di venerdì 2,51 6 il titolo possa tornare prima 2,53 2 poi sul massimo di periodo del 15 di marzo 2,58 e 6 D'Amico io come sapete sono uscito da D'Amico sta provando a fare una base sulla media mobile a 100 6,73 4 primo obiettivo però per me è 6,58 e poi 6,44 ha bisogno di una correzione ancora di qualche punto percentuale poi andiamo a vedere se troviamo qualcos'altro di interessante ecco attenzione a Zucchi perché questa mattina c'è stata un'asta a rialzo notevole con 20.000 pezzi direi sì a 2,18 infatti poi ha ritracciato però vedo il titolo piuttosto bene chiude appena sopra la media mobile a 202,075 però mi dà l'idea che Zucchi possa arrivare fino a 2,25 quindi è uno dei pochi titoli che devo dire ha un'impostazione abbastanza chiara per provare a strappare al rialzo poi vediamo un attimo ancora direi concludo con Trevi perché l'avevo analizzata nel video di riepilogo settimanale che pubblico la domenica su Milcap Star e Growth oggi Doji massimo 0,351 chiusura 0,346 media mobile a 50 0,357 media mobile a 100 0,36 massimo primo luglio 0,362 massimo 11 di giugno 0,36 e 75 andiamo adesso nei peggiori ecco di Giglio vi avevo detto di Giglio vi avevo detto sono movimenti che quando il titolo ritraccia vi avevo già detto ieri che davo un target a 0,634 0,63 oggi ha fatto 0,634 e vi dirò di più che potrebbe arrivare anche fino a 0,57 che è il minimo del 22 di luglio questi sono movimenti ripeto che andrebbero tradati solo da trader molto esperti erano usciti i ricavi premiari di Mona Lisa che sono stati abbastanza deludenti dovremmo essere addirittura su nuovi minimi storici esatto questa purtroppo è un'azienda che il mercato ha continuamente venduto era arrivata avete visto a 14 euro e sinceramente adesso siamo sotto l'euro Ariston oggi ha ritracciato in maniera abbastanza convinta anche se candeli inside massimo 392 2 chiusura 368 comanda la quasi dragonfly di venerdì per il range enorme fatto 337 4 3 93 e 6 poi attenzione perché oggi ho visto veramente ben venduta calta girone ordinaria titolo che va a testare la media mobile a 100 che è 529 fa un minimo a 526 chiude a 532 obiettivi per le prossime sedute direi almeno 520 e poi 5 e 0 8 destination italia fatemi vedere se me l'ero persa probabilmente sì me l'ero persa vi chiedo scusa destination italia ancora venduta mettiamo un attimo un settimanale e il rischio è di un ritorno sui minimi storici per cui parliamo di 0 73 e 6 with titolo che comunque viene da un rally importantissimo ma adesso a mio avviso è a rischio distribuzione ne avremo certezza sotto 21,65 per un primo obiettivo 21,30 poi 20,90 20,70 la media mobile a 50 è 20,38 ok Antares Vision Antares Vision adesso mi sembra abbastanza chiara la fase di distribuzione con un obiettivo sulla media mobile a 100 in area 3 poi potrebbe estendere di basso fino a 2,91 minimo del 15 di maggio voglio vedere se Mondo TV ha fatto nuovamente minimi storici no però il rischio è che li vada a fare perché sono stati il 24 a 0 17 2 quindi titolo ancora in difficoltà Italian Exhibition Group adesso a mio avviso è a rischio di distribuzione primo obiettivo 6,32 poi 6,16 quindi direi 5,94 considerato che poi la media mobile a 50 è 5,87 ecco attenzione a SolidWork perché SolidWork sinceramente si sta purtroppo mettendo in una situazione che potrebbe portare il titolo anche fino a 2,27 2,24 quindi attenzione perché qui c'era stata molta speculazione Imsi ecco Imsi oggi peraltro ve l'avevo già detto nel video di ieri non ha fatto la prosecuzione perché se Piaggio perde il 6% comunque Imsi viene penalizzata essendo l'azionista di maggioranza assoluta di Piaggio però fino a 0,63 3,3,3,0,63,4 ci potrebbe anche arrivare proseguito oggi il movimento a ribasso di Ilpra Interday è andata a perdertura la media mobile a 200 5,10 ha fatto un minimo a 5,05 poi ha chiuso proprio a 5,10 obiettivi e poi 4,88 Doveliu vediamo se Doveliu è riuscita a non perdere i livelli di supporto importanti 1,94 finché tiene 1,94 ancora meglio finché tiene quel livello c'è ancora una speranza per un rimbalzo che potrebbe arrivare fino a 2,14 e 8 Seri Industrial ritengo che possa tornare fino a 3,78 la media mobile a 103,75 poi c'è 3,68 minimo 6 di maggio Fiera Milano non ve l'ho aperta la trimestrale mi scuso con voi ma non posso farle tutte non mi è dispiaciuta anzi mi ha sorpreso se non erro hanno alzato anche la Guinness per l'intero 2024 però il titolo è stato venduto credo possa tornare prima a 3,85 poi sulla media mobile a 50 3,83 quindi sulla media mobile a 100 3,75 e mezzo l'Uve ecco dopo la bella Marubazzo White di venerdì non era così facilmente immaginabile questa quasi Marubazzo Black direi 3,24 0,7 0,26 0,65 Juventus qui siamo in fase correttiva primo obiettivo 2,33 poi 2,27 1 quindi direi 2,22 e 85 minimo primo di luglio di Italian Sea Group continua a essere respinta dalla media mobile a 200 che è 9,054 e scusate quando uno è scemo è scemo devo tirar la statica direi 8,46 il livello più importante dove provare a far base poi attenzione perché anche un titolo come Brembo è a rischio rottura al ribasso metto subito un settimanale vedete che il livello oggi ha fatto un minimo a 9,94 il minimo era 9,96 almeno fino a 9,53 mezzo se non 9,24 e mezzo ci può tornare De Longhi De Longhi sembra voglia andarsi a cercare prima la media mobile a 200 29,61 poi il minimo del 28 di giugno che è di 29,16 San Lorenzo San Lorenzo a rischio rottura al ribasso anche se a me un'azienda che piace molto primo obiettivo è 36,6 poi dopo però c'è veramente un po' il baratro perché si può arrivare a 33,35 minimo prima settimana di novembre del 2023 Salvatore Ferragamo lotta in area di minimi storici ha fatto vedete 7,75 e mezzo il 28 di giugno 7,76 2 di luglio 7,75 il 25 luglio quindi finché tiene l'area di minimi storici un rimbalzo fino alla media mobile a 50 8,75 4 poi massimo 15 luglio 8,74 può ancora farli siccome è molto tardi faccio un ultimo titolo che è Karel Indusys perché anche Karel è a rischio rottura al ribasso questa rottura al ribasso significa che il titolo vedete vi ho già messo un settimanale potrebbe arrivare prima a 16,14 poi direi addirittura 15,63 quindi 14,39 ovvio che sono target molto penalizzanti però sarebbe una rottura quella di 16,66 veramente molto pesante mi scuso con voi per essere riuscito a registrare i video solo a quest'ora però spero dall'altra parte che appreziate che sono le 22 e 19 e sono ancora in ufficio auguro a tutti una buona notte io stanotte ho dormito un'ora perché sono bagnato qui nonostante abbia la recondizionata a Bologna e provincia non si sta e vi aspetto domattina prima dell'apertura del mercato di giorno